non lo dirò, è giusto ma... è giusto, a me prendevo qua vado, vado poi qua ci sta un capitaluccio si, si, si si, 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 io, che appartiene a te e a me, eh al me io ho preparato una carta dove tu dichiari che durante la tua assenza non ho specificato di che natura no, no, no precisare, no, no, carità io posso disporre di questo materiale come meglio credo perché ho pensato se mi vengano a chiedere che s'accia delle sedie per una festa vengo in carcere da te e ti vengo a domandare ah beh, tu permetti tu capisci, un fratello in carcere è un fratello in carcere possono servire soldi da...